Mister, era una gara difficile, lo si sapeva, le chiedo come l'ha vista? Sì, era una partita difficile, giochiamo contro una squadra forte, una squadra in grande salute. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, abbiamo perso qualche duello, che ha condizionato sicuramente un po' la prima parte della gara. Una partita che è stata anche condizionata dai numerosi infortuni, perché abbiamo dovuto fare quattro cambi forzati e chiaramente quello un po' ti scombussola i piani. Quello che c'è di buono di questa partita è che comunque, nonostante le difficoltà anche impreviste, la squadra comunque è stata dentro la partita fino alla fine e anche nel finale, nonostante la stanchezza eccetera, abbiamo comunque creato dei presupposti per andare per pareggiare la gara e quindi questo è quello che di buono ci dovevamo portare da questa partita. Archiviare e rialzarsi, sono le due parole da cui deve ripartire il Verona in vista di questo finale di campionato? Sì, assolutamente, perché questa squadra all'interno di questo percorso dal 4 gennaio è già successo che abbiamo avuto qualche piccolo intoppo, però la squadra ha sempre saputo reagire, ha sempre saputo trovare le energie per poi ripartire e ovviamente siamo arrivati qua, fino adesso è un grandissimo traguardo rispetto a dove eravamo. Naturalmente in tutti i ragazzi, in tutto l'ambiente c'è la ferma volontà di voler portare a termine questa cavalcata e quindi da domani dovremo cominciare a resettare questa gara e ripartire perché, ripeto, abbiamo tutta la voglia e la determinazione di arrivare in fondo.